Il Comune di Teramo ha approvato un'importante delibera in materia di modifica al PRG per la retrocessione dei terreni edificabili non utilizzati e non utilizzabili, anche ai fini di ridurre la tassazione IMO ai cittadini interessati. Già nel 2014 l'ente aveva dato avvio alla procedura di formazione e approvazione di una variante al PRG per la rilocalizzazione di diritti edificatori e la retrocessione di terreni edificabili contenente anche la correzione di incongruenze nella pianificazione vigente. Siamo riusciti a chiudere questa partita, sono arrivate circa 600 domande di retrocessione tenendo conto di quella che è la situazione non soltanto della crisi da parte del settore edile ma anche a quella che è la crisi economica che attalaglia il nostro territorio sia a livello nazionale e anche nel nostro piccolo a seguito del terremoto della pandemia e del caro bollette ci è sembrato importante portare e chiudere questo ragionamento tenendo conto tre aspetti fondamentali che non bisogna assolutamente imporre un aggravio fiscale ai nostri cittadini e bisogna tener conto ad un principio fondamentale che viene sancito a livello della comunità europea che è quello del consumo del suolo. Quindi tenendo conto quello che è il calo democrafico che abbiamo in questo momento dobbiamo evitare quello che una volta era usuale e cioè la speculazione edilizia riappropriarci quindi del nostro territorio, dei nostri spazi verdi per meglio poter vivere e perché no ribadire che l'Abruzzo è un terreno verde e quindi un polmone verde importante della nostra regione. Ovviamente come assessore al bilancio non posso tener conto che le retrocessioni comportano anche delle minore entrate ecco perché con la delibera di indirizzo che attuammo nel mese di novembre 2021 a fianco all'iter che si concluderà il 28 sulle retrocessioni abbiamo anche, stiamo portando avanti grazie all'Università di Camerino, il nuovo regolamento per i piani attuativi integrati in modo tale da poter riassegnare sulla base di quelle che sono le domande e tenendo sempre conto quello che è il consumo quindi l'aspetto urbanistico del nostro suolo riattribuire i diritti edificatori sui terreni.